La sala dove i clienti stanno in attesa del consulto, io voglio andare dopo la mia piccola che era una manca di merda, non voglio sapere, dico, quella è sala. Ci ha fatto attenzione, di mani di stanza scura, di forze antiche, quelle ai poltroncini cortiti, quelle sedici, però vado a grado di dominazione, sono di inverno. Questa vita e i clienti non appartiene a casa, no! Vi si chiamano di una percorso di amiche della sua signora un bel altro salotto, ricco, bello. mi stanno esprimendo in qualche senso la fronte contro in cima di quel salotto portato qua nella sala dei clienti, qua, la cui basta un ammetto così di alta buona, leggendo, soldi. Vorrei sentire, quando ha giocato la sua figuola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola sulla quale stette seduto aspettando. No! Perché non era malato, perché non era malato. Ma neanche i malattici che si occupano, compresi come sono del loro male, ma quante volte c'è alcuni stando lì a guardarsi in dito e passendo i panni sul braccio non solo della poltrona su cui stanno seduti. Prensa! E non si ritorna! E non si ritorna! Ma che ferrofattori quando si esce dalla visita e riattraversando la sala? Che dovete dire? La poltrona o la seggiola? Sulla quale più grande si è in attesa di quel sentimento sta sul nostro male, il loro è nuovo, stavano seduti! E non andrò a occupare della mano di cliente. Anch'esso sul suo male segreto. L'impactante, una nuova per passire, in attesa di là, non non c'è, sì, ma in a occuparla! Ma in a occuparla! Momenica a occuparla! Grazie a tutti. Grazie a tutti.